Il cadavere è stato occultato, l'arma del delitto è sparita, l'identità dell'assassino è stata cerata, due uomini conoscono la verità, uno è un maestro del furto, l'altro è l'uomo più potente del mondo. Clint Eastwood, Gene Huckman, Ed Harris, Laura Lini, Judy Davis e Scott Glenn potere assoluto. Grazie a tutti.